...unito tutti i sindacati in prospettiva di questo incontro, che era già stato qualisato in quell'occasione. Questa riunione avrebbe dovuto esserci ieri, solo che poi, nella prima convocazione, hanno ricevuto subito il tinievo da parte delle altre rappresentanti sindacali a partecipare dopo di che questa riunione è saltata, sapendo anche che poi loro sarebbero poi intervenuti quest'oggi. Per quanto ci riguarda, anche noi, viste le possibilità di intervenire direttamente come amministrazione, stiamo cercando di dare la disponibilità per creare almeno una linea comune per quanto riguarda le richieste dei lavoratori. Quindi l'auspicio è ancora quello che è un palissimo solo a rappresentanti della CUB, ma anche a rappresentanti di CCI e di CCI, quando io ho sentiti, lo scorso sabato, la disponibilità di un incontro, anche per su cui di mesero informale, in maniera tale da trovare una linea. Per il resto, è la prima volta che si è finito le ragioni o comunque le motivazioni dell'azienda, effettivamente le parti sono distanti, cioè le richieste del sindacato è... Grazie. Grazie.